Noi una settimana fa circa abbiamo mandato una lettera al preside dove esponevamo tutti i problemi riguardanti questa scuola come ad esempio il fatto che non possono arrivare ambulanti e cose del genere, il fatto che le scale siano molto piccole e non abbiamo una palestra e comunque il problema generale è che noi ci sentiamo divisi da quello che in realtà era la nostra scuola dove siamo stati cinque anni e ci hanno diviso dopo da tutto il resto della scuola che invece è rimasto a liceo vecchio e solo il triennio è stato spostato qui. O di tornare tutti quanti lì anche facendo i torni pomeridiani o comunque che la scuola venga un attimo rivista tutto, non abbiamo mai fatto delle prove antisismiche, abbiamo una gru sopra la testa, non abbiamo una palestra, vi ho chiesto che venisse attrezzato un po' il cortile anche per magari fare educazione fisica in cortile perché se no ci troviamo a correre per un'ora o comunque in generale di essere ascoltati e di ricevere una risposta e di parlare.